A dieci anni dal sisma, la ricostruzione in Emilia è ormai in fase di completamento. Venerdì 20 maggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà visita a Medolla e a Finale Emilia, due luoghi simbolo del terremoto che colpì in particolare le province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna. Un cratere che inizialmente contava 59 comuni, oggi ridotti a 15. Sarà presente anche il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Il Presidente Mattarella venne qui 5 anni fa, Carpia Mirandola la definì una ricostruzione esemplare per come stava procedendo. Siccome sta per terminare, certo rimangono ancora diverse cose, ma siamo verso il 95% del completamento di tutto ciò che era distrutto, inagibile. Stiamo parlando di una ricostruzione nell'ordine di 13 miliardi di euro, forse persino alla fine sarà qualcosa in più. Possiamo dire che è stato fatto un lavoro davvero meritorio, merito di tutti, nessuno escluso. La forza ancora di una terra, quella dell'Emilia Romagna e della sua gente, del suo sistema istituzionale, produttivo, di protezione civile, che ha dimostrato che qui, anche di fronte a tragedie in mani come questa, ci si rimbocca le maniche e ci si lamenta molto poco. Quindi credo che domani il Presidente Mattarella potremo tutti insieme presentare una ricostruzione che dice che in questo paese ci sono dei luoghi dove le cose funzionano e funzionano e come. Ad intervenire in merito è anche il Sindaco di Ferrara, Alan Fabri, all'epoca primo cittadino di Bondeno. Fabri ricorda con angoscia quei momenti, quando, oltre agli evidenti danni causati dalle violente scosse, venne raggiunto dalla notizia della morte di un operaio di 29 anni. Anni difficili, di cui però l'Emilia è riuscita quasi completamente ad uscire e proprio per questo il Sindaco di Ferrara riconosce la nostra terra come un esempio per il paese.